incredibile ci sta aspettando un tempo molto singolare ballerino e perché siete voi a creare le condizioni della storia la storia diventa vera perché voi la inventate e inventare trovare vediamo cosa succede oggi i protagonisti ciaccione il nonno e suo nipote caroto devono risolvere un grosso sbaglio commesso dal nonno ecco perché sono andati nel 2001 per mezzo di un loro strumento molto molto particolare costruito nel tempo lo sappiamo l'orologio del tempo il corridoio del tempo che la scala mobile di potenza il migliore modo per risolvere quel problema ci è sembrato che fosse stato innanzitutto incontrare il se stesso il se stesso del passato così è accaduto nel 2001 con il nonno ciaccione che ha incontrato se stesso più giovane se stesso papà così è accaduto nel 2035 perché poi nel frattempo i bambini del 2001 sono finiti nel 2035 tra quei bambini c'era la piccola mamma la piccola nessuno tutto fare la mamma adulta mamma nessuno tutto fare adulta e nella biblioteca del 2035 insieme a sua figlia rebba sorellina di caroto le cose cominciano veramente intrecciarsi ma i vari pezzi li metteremo a posto e anche lì tra quei bambini del 2001 c'è una bambina che nessuno tutto fare anche lì avviene un incontro e un dialogo l'errore che è accaduto per nonno ciaccione un po per tutti i protagonisti è nel tempo perduto l'errore che può accadere è nel tempo avvenire ed è sempre lo stesso errore perdere il tempo quello importante come farà nonno ciaccione a mettere le cose a posto ciaccione caroto riusciranno a tornare indietro a casa loro cioè avanti nel loro tempo che il 2035 e i ragazzini del 2001 che sono finiti nel 2035 torneranno al loro tempo e come ci riusciranno chi chi che cosa li aiuterà sicuramente e questo è certo il loro ritorno a casa nel passato o nel futuro cambierà il loro modo di guardare come avviene in ogni viaggio come succede nel viaggio più importante di ognuno di noi che è quello della crescita ecco che cosa è accaduto venerdì pomeriggio della scorsa settimana siamo nella biblioteca del 2035 mentre mamma nessuno tuttofare sta parlando con se stessa bambina rebba sua figlia la la sorella di caroto vede qualcosa che luccica qualcosa che luccica fra i libri c'è qualcosa che brilla nello stesso momento nella biblioteca del 2001 mentre nonno ciaccione sta parlando con il se stesso più giovane ciaccione papà anche su un ipote caroto nota un luccicchio nella stanza è un luccicchio che proviene dai libri la luce arriva infatti da un libro nella biblioteca del 2001 e caroto lo apre sapete cosa trova nel libro c'è c'è uno specchio sì nel libro c'è uno specchio uno specchio costudito custodito da un drago un raggio di luce mette in comunicazione due libri che si trovano in due spazi tempo diversi proprio come i due fratellini caroto e rebba che sono in due tempi diversi in due spazi uguali ma diversi e si mettono in comunicazione attraverso un luccicchio che proviene dai libri il libro nella biblioteca del 2035 inizia a luccicare rebba lo vede i due fratelli rebba e caroto custando in due dimensioni spazio temporali differenti riescono a entrare in comunicazione partiamo da qui e andiamo avanti ebbene allora facciamo accadere la storia la stiamo per fare diventare vera e questa cosa non è mai successa da nessuna parte